ciao qui danielo maruca di diritto alla meta.it se non mi conosci sappi che sono life coach ho scritto 10 libri come ghostwriter e collaborando con diverse aziende siti ho scritto più di 500 articoli in questo video originale di napoleon il voglio condividere con te ciò che disse il molti anni fa ha fatto la differenza per me può farlo anche per te perci ascolta con molta attenzione come va sono molto felice di questa tua visita ma siediti per favore bene ora in questa lezione ti parlerò di un principio del successo che ha segnato la vita di tantissime persone con la quale si sono promosse dall'insuccesso alla realizzazione questo principio è chiamato l'abitudine di fare un miglio in più il che significa l'abitudine di fare di più di quanto si viene pagati per fare e farlo in un atteggiamento mentale positivo ti dirò tutto quello che so a proposito di questo magico principio perché l'unica regola che devi seguire lascia che ti descriva questo principio in una breve formula che puoi facilmente ricordare la chiamo la formula qqma che significa la qualità del servizio reso oltre alla quantità del servizio che offri più l'atteggiamento mentale in cui rendi il servizio determina quanto guadagni le persone che hanno ottenuto successo sicuramente hanno utilizzato questo principio la maggior parte in maniera inconscia ecco perché voglio spiegarti cosa devi fare per utilizzarla in maniera consapevole ma prima ti elencherò i vantaggi dell'applicare questo principio beneficio numero uno questa abitudine ti porterà a conoscere nuove opportunità e nuove persone che sono disposte a promuoverti a qualcosa di migliore due ti permetterà di utilizzare a tuo favore la legge dei rendimenti crescenti attraverso cui il servizio reso ritornerà moltiplicato tre questa abitudine ti renderà indispensabile nel tuo mestiere attuale quattro questa abitudine ti allenerà all'eccellenza perché ogni volta che rendi di più di quanto sei pagato per fare ti stai sforzando di disciplinare te stesso 5 se lavori per uno stipendio quindi fai un lavoro dipendente questa abitudine ti darà la preferenza sui tuoi colleghi 6 ti aiuterà beneficiare della legge del contrasto perché gli altri intorno a te difficilmente faranno già quello per cui sono pagati per fare figurati se fanno di più 7 seguendo questa abitudine migliori la tua personalità e questo ti permetterà di piacere maggiormente alle altre persone 8 ti aiuterà anche a sviluppare una fervida immaginazione in quanto devi continuamente stare attento a trovare nuovi modi per fare di più di quanto vieni pagato 9 ti permetterà di sviluppare la determinazione in quanto le cose le farai senza che le persone ti dicano di farle ed è un'abitudine utile per aumentare la tua leadership anche se non riceveresti nessun beneficio da questa abitudine già solo il fatto che migliora la padronanza che hai di te stesso e che soprattutto questa abitudine va ad eliminare la procrastinazione che è una delle principali cause del fallimento sarebbe già un ottimo motivo per utilizzarla inoltre ti fornisce l'unica motivazione valida per chiedere di più per chiedere anche una paga maggiore in quanto se fai di meno di quello che dovresti fare perché mai dovresti ricevere una retribuzione maggiore di quella che stai ricevendo perciò il mio consiglio è svolgi bene il mestiere in cui ti trovi oggi molte volte Andrew Carnegie mi disse che quest'unica abitudine fu ciò che gli permise di passare dalla povertà alla ricchezza e fare di più significa che una persona deve rendere il massimo servizio di cui è capace in maniera amichevole e mentalmente armoniosa deve farlo soprattutto indipendentemente dall'entità del compenso immediato che riceve e deve farlo anche se non riceve nulla l'abitudine di fare di più di quello per cui si è pagati si può esercitare senza chiedere il permesso a nessuno di conseguenze sotto il nostro totale controllo molte altre abitudini positive che possiamo sviluppare devono passare attraverso la cooperazione di altre persone ma questa sana abitudine dipende solamente da noi e dal nostro desiderio di utilizzarla non ho ancora conosciuto nessuno che si autopromuova ad una posizione più elevata senza utilizzare questa abitudine magari lo fa inconsciamente però la applica la sottigliezza che sfugge a molti è questa qui finché un uomo non inizia a rendere un servizio superiore a quello per cui è pagato non ha titolo per ricevere più del dovuto perché ovviamente percepisce già una giusta ricompensa penso di poter chiarire questo punto richiamando la vostra attenzione sul banale esempio dell'agricoltore prima di incassare il compenso per i suoi servizi prepara accuratamente e intelligentemente il terreno lo fertilizza lo lavora e quando è arrivato il momento pianta dei semi fino a questo punto non ha guadagnato assolutamente nulla non ha percepito nulla da questo suo lavoro ma conoscendo la legge della crescita si gode il meritato riposo intanto che la natura fa germogliare i semi e gli procura un proficuo raccolto a tempo debito la natura gli restituisce i semi che ha piantato nel terreno insieme ad una grande abbondanza in più in quanto il seme è un qualcosa di piccolino che però crescendo porta dei frutti perciò il saggio agricoltore riceve di più di quanto ha dato non serve una grande immaginazione per capire che colui che rende un servizio maggiore migliore di quello per cui viene pagato si mette in condizioni di trarre beneficio dalla stessa legge infine vi dico francamente che non c'è modo di tenere a freno un uomo che ha questo atteggiamento mentale è lui che stabilisce il suo prezzo e lo tiene facilmente se un datore di lavoro è così miope da non compensarlo adeguatamente prima o poi qualcun altro più saggio di lui lo scoprirà e gli offrirà una posizione migliore entra così in gioco la legge dell'offerta e della domanda e gli fa ottenere la giusta retribuzione che merita l'iniziativa è sempre totalmente nelle mani del dipendente ma questo principio non si applica solamente a lavoratore dipendente per esempio il commerciante che regala mezzo centesimo in più al cliente nel dargli il resto anziché lucrare disonestamente su questa operazione è di gran lunga più saggio del commerciante chi si rifiuta di farlo per applicare questo principio parti dal fare bene il mestiere che sei chiamato a fare migliora il più possibile e poi sforzati di fare di più di quanto sei pagato per fare ma svolgi quel di più in un atteggiamento mentale di perfetta armonia ti assicuro che questo ti allena all'eccellenza invito a partecipare al webinar gratuito che ti spiega come sprigionare il tuo potenziale geniale in meno di otto settimane sembra possibile sbloccare la parte miracolosa del cervello grazie ad una semplice tecnica mentale scoperta da uno psicologo russo nel 1971 scopri di cosa si tratta cliccando sul link che trovi nella descrizione di questo video